Ci sono quindi precedenti storici che inducono ad essere ottimisti. La prospettiva di una maggiore integrazione europea può uscire rafforzata dall'attuale crisi economico-finanziaria perché è sempre più chiaro che nello scenario globale dei tempi in cui viviamo, per competere e garantire i diritti dei cittadini, serve davvero più Europa e non certo meno Europa. Ed è per questo che risulta quanto mai prezioso e fecondo riattingere oggi energie morali e politiche dal grande patrimonio ideale lasciato sia dal Cile De Gasperi sia dal Tiero Spinelli. Grazie.